Per la Regione Abruzzo è un onore essere qui, perché festeggiare questi 50 anni, questo anniversario così importante, è una cosa veramente grande. 50 anni di cultura abruzzese, di tradizione abruzzese portata avanti con passione e con dedizione da Nello Scipione e da tutti i membri del centro canadese qua a Ottawa. Vedere questi abruzzesi che sono venuti qua con mille difficoltà, magari senza una lira in tasca, senza conoscere la lingua e diventare grandi e portare avanti in maniera splendida il nome dell'Abruzzo per noi è veramente una questione di grande, grande orgoglio.